Buongiorno a tutti, la lezione di oggi sarà tenuta dal professor Ettore Pellestri dell'Università di Roma Tornaviata. Mi fornisco qualche brevissima indicazione riguardo il professor Pellestri, si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Roma della Sapienza nel 1980, dopodiché ha effettuato il Master of Science e successivamente il Doctor of Engineering Science presso la Columbia University di New York, avendo avuto come tutor il professore Ferdinand Freudstein, con il quale abbiamo avuto a che fare durante il corso, e attualmente è ordinario di meccanica applicata appunto presso l'Università di Roma a Tornaviata. Tevremo un seminario dal titolo On the Applications of the LIMAX Change of Criterion in Meccanica di Ingegneria e quindi è un grande piacere avere il professore qui da noi e passo la parola a lui. Grazie innanzitutto al professor Figliolini per l'introduzione e per il cortese invito. Grazie anche a voi per essere intervenuti a questo seminario. Ovviamente il titolo è in inglese ma il seminario sarà in italiano. Giorgio ha appena ricordato il professor Ferdinand, oggi sarebbe stato il suo compleanno, quindi tra l'altro le cose che adesso vi sto per dire le ho apprese direttamente da lui. una delle cose che ricordo è che quando si seguivano i suoi corsi lui insegnava le cose che lui stesso aveva scoperto, lui stesso aveva proposto in cinematica. oggi parliamo di Cebicef. Cebicef adesso vedremo è uno dei pilastri dell'ingegneria meccanica. Comincerò con un po' di storia perché capire in quale contesto opera Cebicef e l'influenza che questa persona ha avuto sui sviluppi della scienza secondo me è significativo. parleremo del criterio min-max che è poi un criterio che è stato formulato come vedremo proprio cercando di risolvere un problema di cinematica ma che ha dei risvolti applicativi in meccanica, in elettronica, nella dinamica come vedremo. vedremo alcuni problemi di cinematica risolti proprio applicando questo criterio di ottimo vedremo quindi un'applicazione di questo criterio di ottimo in dinamica e quindi alcune conclusioni del seminario. Allora Cebicef nasce in Russia in un villaggio vicino Mosca nel 1841 e la famiglia è una famiglia giata, il padre era ufficiale dell'esercito che ha combattuto nelle campagne napoleoniche e fin dall'inizio lui vuole dedicarsi alla carriera accademica. Purtroppo Cebicef era claudicante per una malattia che aveva avuto da bambino. riesce diciamo nel 1847 ad avere un posto come professore assistente all'università di San Piero Burgo e lì compie tutta la sua carriera accademica. Non si sposa mai e si ritira, va bene, va in pensione all'età di 61 anni. qualche notizia, diciamo così, qualche pettegolezzo su Cebicef. Cebicef aveva una figlia avuta da una governante e si narra che lui dopo aver avuto questa figlia si chiudesse nelle sue stanze la sera per paura che qualche governante lo venisse a trovare la notte, quindi è una persona un po' strana. La data di nascita di Cebicef, come vedete, è il 16 maggio, coincide con la mia, quindi sono da questo punto di vista particolarmente onorato. Come nasce la teoria di Cebicef? Perché Cebicef a un certo punto comincia ad occuparsi della progettazione di meccanismi che generano delle traiettorie quasi rettidine. Allora l'idea, questa ricerca viene stimolata dalla volontà di Cebicef di migliorare il parallelogramma di Watt. Il parallelogramma di Watt, come ben sapete, si trova nella celeberrima macchina a vapore e in pratica è un meccanismo che consente di generare una traiettoria rettilinea approssimata. Il parallelogramma di Watt ha una struttura simile. Avete due aste A con 0 A e B con 0 B che sono uguali e al centro avete l'asta che descrive una traiettoria quasi rettilinea. Watt sicuramente è stata una probabilmente eccezza, però dal punto di vista della cinematica era una soluzione che è molto ingegneristicamente valida, però Cebicef capisce che la precisione con la quale questo punto genera una traiettoria rettilinea poteva essere migliorata. La progettazione di meccanismi generatori di traiettoria rettilinea è quasi un'ossessione per Cebicef. Quasi per tutta la sua vita non abbandona mai questo tema. In quel periodo c'era un po' una gara su chi riuscisse a progettare un meccanismo che senza la presenza di coppie prismatiche generasse una traiettoria rettilinea esatta. La sfida la vince Posellier che è un generale dell'esercito francese però quasi simultaneamente Lipkin trova una soluzione simile a quella di Posellier infatti il meccanismo si chiama il meccanismo di Posellier-Lipkin probabilmente l'avete già visto il meccanismo di Posellier è fondato sulla teoria dell'inversione geometrica questo è un meccanismo, è un rombo praticamente un meccanismo a otto membri beh si può dimostrare che in questo punto descrive una traiettoria rettilinea esatta tuttavia questo meccanismo non viene inserito nella macchina a vapore e il motivo è evidente perché questo è un meccanismo a otto membri sostituire un meccanismo a quattro membri dicono a otto capite bene è vero che le prestazioni sono superiori dal punto di vista della precisione con la quale il meccanismo generava la traiettoria rettilinea ma la complessità strutturale raddoppia perché invece di quattro membri ne avete otto ecco questo è il meccanismo di un disegno un po' più decente questa è la curva tracciata dal dal punto di biella del meccanismo di Vatt è una leminiscata Vatt in una lettera al figlio spiega un po' come ha ragionato come è arrivato a progettare questo meccanismo e lo fa in maniera molto semplice ed efficace secondo me in pratica ha ragionato in questi termini allora questo punto descrive una traiettoria circolare con la concavità rivolta verso sinistra quest'altro punto invece genera una traiettoria circolare con la concavità rivolta verso destra quindi in mezzo ci deve essere qualcosa di intermedio quindi lui sceglie come punto tracciante la traiettoria rettilinea il punto di mezzeria della biella e qui diciamo così va a collegare il membro binario il pistone e il biello scorretto ecco questo è uno è uno dei modelli dei quadricadri di Cevice adesso ne parleremo questi modelli sono almeno quello che vedete qui raffigurato e conservato all'istituto Bauman di Mosca e presenta appunto una soluzione la soluzione di Cevice alternativa al quadricadro di Watt oh guardate bene che Cevice può essere considerato a tutti gli effetti non solo un matematico eccesso ma è soprattutto un inventore cioè si conoscono vari meccanismi inventati da da Cevice per esempio c'è un meccanismo per trasformare un moto oscillatorio in un moto rotatorio adesso io qui ho un filmato che dovrei diciamo si farvi vedere ma lo faccio vedere un po' verso la fine del seminario però ecco andiamo subito entriamo subito in tema e vediamo va bene andiamo ad esaminare il titolo del primo lavoro di Cevicef su questo argomento e il titolo il lavoro è del 1854 quindi oramai aveva già ottenuto il posto di professore assistente all'università di San Piero Burgo e pubblica questo lavoro teorie dei meccanismi conosciuti sotto il nome di paragiogrammi allora il titolo è promettente e qui in questo lavoro va a formulare il suo metodo che gli consente l'approssimazione di polinomi attraverso delle funzioni o viceversa approssimare delle funzioni attraverso polinomi il titolo è promettente però ecco nel momento in cui lo si va a leggere uno si accorge che mancano delle cose innanzitutto nell'articolo non c'è nessuna applicazione di sintesi cinematica vengono presentati negli articoli successivi ma non in questo infatti la cosa strana è che nella premessa dell'articolo si parla di applicazioni che sarebbero state date però queste spiegazioni nell'articolo originale non sono presenti vediamo adesso questa è la è la formulazione originaria di Cervice che fa senza andare a leggere in francese cercherò di spiegarla in termini molto più semplici attraverso un esempio grafico allora immaginiamo di dover approssimare una funzione f di x utilizzando un polinomio che quindi chiamo con la lettera u un polinomio di grado n quindi n è il grado del polinomio che con il quale vogliamo approssimare la nostra funzione andiamo innanzitutto ad introdurre una funzione errore strutturale che chiamiamo yx questa funzione yx non è altro che la differenza tra la funzione da generare e la funzione generale cioè quella polinomiale chiaramente anche questa sarà la funzione di x allora il criterio max di cedicef richiede per cioè secondo questo criterio l'ottimo si raggiunge allorché che 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 allorché la funzione errore strutturale presenta un andamento equi-oscillatorio tra un valore massimo e un valore minimo, per cui immaginiamo che questo sia il valore a-h e questo sia l'ascista a-h, quindi l'intervallo è l'intervallo h, va bene, e siccome il valore assoluto della funzione, il massimo della funzione deve essere sempre lo stesso, quindi più L meno L, vedete? Questa funzione deve essere equi-oscillante e deve presentare dei massimi e dei minimi in n più 2 punti, quindi i massimi sono 1, 2, 3, 4, 5, significa che stiamo approssimando la funzione con un polinomio di terzo grado, giusto? Allora, quindi, attenzione, voi molto spesso, o meglio in ingegneria, siete stati abituati a un altro criterio, che è il cosiddetto criterio dei minimi quadrati, per esempio nell'interpolazione, nella regressione lineale, si ragione in un'altra maniera, cioè l'ottimo si ottiene quando, quando la funzione y quadro di x resta minimizzata, giusto? Questo è il cosiddetto criterio dei minimi quadrati, il criterio dei minimi quadrati è stato introdotto da Gauss, ma, ripeto, quello di Cebicef è completamente un altro modo di ragionare, quindi per lui l'ottimo si ottiene quando la curva dell'errore strutturale ha un andamento di questo tipo, è detto perché si chiama il criterio min-max, perché se la curva presenta questo andamento, Cebicef dice che il massimo valore di y resta minimizzato. Allora, partendo come vedremo adesso, partendo da questo criterio, Cebicef riesce a calcolare i coefficienti nel polinomio approssimante. Allora, sempre nell'articolo che io ho nominato poco fa, innanzitutto Cebicef dice che non dà una dimostrazione del suo criterio di ottimo, dà l'impressione che il criterio sia noto in precedenza, perché usa un'espressione francese, comme on sait, come si sa, cioè non dice questo è qualcosa che sto proponendo io. Qualcuno ipotizza che questo principio sia stato in qualche modo suggerito da Poncele? Chi era Poncele? Poncele era un ufficiale napoleonico che è stato catturato durante la ritirata di Russia e ha passato qualcosa come due o tre anni in prigionia. E durante questo periodo non è rimasto con le mani in mano, ma ha formulato, ha aperto un nuovo filone della geometria, la cosiddetta geometria proiettiva. Noi oggi non la studiamo più, ma negli anni, diciamo così, nel 1800 era uno strumento di indagine potentissimo. E questo strumento di indagine è stato sviluppato da Poncele durante la visionia in Russia. Ecco perché qualcuno dice ma probabilmente Poncele avrà parlato, avrà fatto, qualcosa sarà rimasto e quindi magari appunti o scritti di Poncele possono essere pervenuti a Cerci. Ma la cosa ovviamente non è certa. Però ecco, quello che è sicuro è che, ripeto, l'espressione che usa Cebicef è un'espressione che dà quasi per scontato che il principio di ottimo che lui ha enunciato fosse noto in precedenza. Allora, prima di andare avanti, vediamo di risolvere un semplice problema di approssimazione di funzione. Quindi immaginiamo di voler approssimare un polinomio di quinto grado, o meglio di voler approssimare la funzione f di x con un polinomio di quinto grado. Quindi vedete io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 incognite. D'accordo? Allora, cosa devo fare operativamente? Beh, la prima cosa da fare è calcolare la funzione errore strutturale. F di x meno 1x. Allora, attenzione, guardate bene che questo modo di procedere è generale. Cioè voi potete risolvere problemi, non è detto che Cebicef debba essere applicato solo per risolvere problemi di cinematica. Chiaro? Quindi vedrete che questo criterio di ottimo è un criterio di ottimo che ha dei vantaggi veramente importanti quando lo si utilizza per ottimizzare il progetto di qualcosa che si vuole costruire. Quindi in ingegneria, capite bene, noi ci confrontiamo sempre con la necessità di stabilire un numero limitato di parametri al fine di ottenere un risultato ottimo. Purtroppo non riusciremo mai ad avere quello che vogliamo. Perché? Perché i parametri a nostra disposizione sono sempre il numero finito, il numero discreto. E quindi quei parametri li dobbiamo scegliere in maniera ottimale. Beh, qui è praticamente la stessa cosa. Noi, questi parametri, nell'esempio che stiamo discutendo, sono i coefficienti del polinomio. Ma potrebbero essere qualsiasi altra grandezza di un progetto di ingegneria. Allora, che cosa abbiamo detto? Beh, abbiamo detto che l'andamento dell'errore strutturale deve essere equioscillante. E quindi se l'equazione è di quinto grado, se io scelto un polinomio di quinto grado, io devo avere quanti massimi? 5 più 2, cioè 7 massimi. E quindi io vado ad imporre, che cosa? Vado ad imporre che la funzione yx con i sia equioscillante tra i valori del massimo. Guardate bene che io il massimo non lo conosco, quindi il valore L costituisce a sua volta un'incognita del problema. Poi devo imporre, vedete, che quando vado a considerare i punti di massimo, considero anche gli estremi. Però agli estremi normalmente non ho solo punti di stazionarietà. I punti di stazionarietà, i massimi e i minimi, ce li ho all'interno dell'intervallo. E quindi io devo aggiungere che cosa? Devo aggiungere altre relazioni necessarie, ovviamente, che richiedono la stazionarietà della curva dell'errore strutturale nei punti di massimo e minimo relativo, anzi assoluti in questo caso. Quindi abbiamo 7 condizioni di massimo, 4 condizioni, anzi 5 scusate, quindi 7 più 5 è 12. Abbiamo 5 condizioni di stazionarietà, abbiamo 12 condizioni. Però diamo anche quanti parametri dobbiamo stabilire. E dobbiamo stabilire i coefficienti polinomiani. Però attenzione, abbiamo detto che L è incognito. Ma non solo L è incognito, non sappiamo dove si trovano i massimi, cioè i punti dove si hanno i massimi. Quindi queste ascisse, dove si realizzano i massimi, costituiscono ancora un'incognita del problema. Quindi ripeto, alla fine sono incognite, le ascisse dei punti di massimo e di minimo, ovviamente estremi esclusi, il massimo valore dell'errore strutturale e i coefficienti del polinomio. Quindi alla fine, io qui ho elencato su questa slide tutte le incognite, quindi abbiamo i coefficienti del polinomio da p con 0 a p con 5, le ascisse dove io vado a realizzare i valori massimi e minimo, x2, x3, x4, x5, x6, vedete che x1 e x7, io questi valori non li conto, perché? Perché x1 e x7, cioè i valori estremi, all'estremi dell'intervallo di approssimazione, queste ascisse sono per me notte, perché io so all'interno, l'intervallo all'interno del quale voglio realizzare l'approssimazione. Allora, se io vado adesso a risolvere questo sistema di equazioni non lineari, perché questo sarà un sistema di equazioni non lineari, rispetto alle incognite che ho elencato su questa slide, alla fine vedete, ecco qui quello che io ottengo, scusate al posto di x2, qui ho messo t con 2, ma qua dovete leggere x2, x2, x1, 4, la direi scoprendo. Vedete che il bello del criterio di Cedicef è che alla fine mi dice qual è l'errore che io sto commettendo, qual è il massimo valore che io sto commettendo. Guardate bene, questa è una caratteristica molto utile in ingegneria, perché? Perché l'ingegnere molte volte ha necessità di dire se io faccio questa scelta, qual è il massimo valore dell'errore che io sto commettendo? Se si adotta il criterio di Cedicef avete la possibilità di calcolare il massimo valore dell'errore. Adesso provo a diagrammare l'errore strutturale, ho dimenticato di dire che la funzione ad approssimare è la funzione coseno di x, coseno di pi che con mezzo di x e vedete questo è l'andamento della curva dell'errore strutturale, vedete c'è questo andamento tipico del criterio di max, cioè l'andamento è qui oscillante tra il massimo e il minimo. Il massimo valore dell'errore strutturale è dell'ordine di 10 alla meno 4, cioè un ottimo errore, un errore molto basso. Quindi, vediamo di mettere a fuoco le caratteristiche del criterio di ottimizzazione di Cedicef. Allora, la prima caratteristica è l'ego oscillazione dell'errore strutturale tra massimo e minimo e la minima massima deviazione dallo zero, cioè non è possibile fare di meglio. Con questo criterio non è possibile fare di meglio, cioè si può dimostrare che adottando questa forma dell'errore strutturale, il massimo valore dell'errore strutturale resta minimizzato. Quindi, meglio di così, non si può fare. E questo è una bella garanzia, poi vi farò vedere qualche applicazione di questa proprietà. naturalmente Cedicef è più famoso in matematica per tutta una serie di scoperte che ha realizzato che è in cinematica. Però ecco, ricordiamoci che questa teoria, va bene, che è una teoria che poi ha avuto degli svolti nella matematica, nasce da un problema di cinematica. In matematica sono, direi, celeberrini i cosiddetti polinomi di Cedicef. Ne avete mai sentito parlare? Qualcuno ha sentito mai parlare di polinomi di Cedicef? Lei non? Mai. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Allora, l'idea di Cedicef è la seguente. Immaginiamo di voler approssimare il polinomio di grado n, x alla n, utilizzando un polinomio di grado n-1. Quindi l'idea è la seguente. Voglio approssimare un polinomio di grado n, in particolare fx uguale a xn, utilizzando invece un polinomio di grado n-1. Allora, qualcosa devo fare? Devo praticamente calcolare l'errore strutturale. E quindi l'errore strutturale che io qui ho indicato con p con n e x, sarà x con e, sarà f di x meno u di x. Chiaramente, siccome per u di x ho messo il segno meno qua davanti, avrò x con n più p con n-1, xn-1 e via discorrendo. D'accordo? Adesso devo applicare che cosa? Devo applicare le condizioni di ottimo secondo Cedicef. Quindi, richiedo che cosa? Richiedo che in n più 2 punti ci siano dei massimi e dei minimi consegni alterni. Richiedo che ci siano n-1 punti in cui l'errore strutturale assume dei valori stazionali. Cominciamo dal caso, vabbè, il caso semplice è n uguale a 0, n uguale a 1, che è il caso forse più banale, tra virgolette. Allora, se n uguale a 1, chiaramente avrò il polinomio da approssimare e x e lo devo approssimare con una costante, quindi in questo caso p con 0. Beh, agli estremi t-1, t più 1, quindi meno 1 più p con 0, meno 1 più p con 0, meno L più L. E quindi se io adesso vado a risolvere questo sistema costituito da due equazioni, due incognite, due equazioni, una e p con 0 e l'altra L, ottengo che p con 1 x uguale a x. Beh, questo è il primo polinomio di Cedicev. Andiamo a prendere un esempio un po' più elaborato. Prendiamo il caso n uguale a 2, quindi la funzione... Devo approssimare x quadro utilizzando una retta. Allora, che cosa devo fare? Beh, devo imporre che cosa? Devo imporre che il sistema abbia queste posizioni di massimo, devo imporre che la curva errore strutturale abbia una posizione, un punto di stazionalità, e quindi ho che cosa? Un sistema di equazioni dove le incognite sono p con 0, p con 1, x con 2 e L, quindi quattro equazioni in quattro incognite. Vedete che il sistema è non lineare, perché x con 2, quindi non è una passeggiata, perché poi risolvere il sistema non lineare è complicato, purtroppo. Ecco, questo comincia già... Ora cominciate un po' a vedere il carattere di Cedicev. Cedicev è un matematico, è uno che davanti a un sistema di equazioni non lineari non si scoraggia e va avanti. Allora, questo sistema si può risolvere, questa è la soluzione, e quindi questo è il secondo polinomio di Cedicev. Quindi si può andare avanti, e se io qui ho... Questa è una tabella che trovate anche sul mio testo, vedete, flottati qui sulla slide, i polinomi, l'andamento dei polinomi di Cedicev. Vedete che sono dei polinomi che hanno... sono sempre coescillanti, anche questo è coescillante. Vedete, se io faccio passare... traccio l'ascissa y uguale a 0, vedete che ho il massimo 0,5, minimo 0,5, massimo 0,5. Poi se traccio la retta delle ascisse a partire da y uguale a 0, vedete che ho il massimo che è circa 1,3 qualche cosa, minimo 1,3 qualche cosa, massimo 0,5. Anche questi altri, t con 4, t con 5, t con 6. Benissimo, questi polinomi ottenuti in questo modo sono i cosiddetti polinomi di Cedicev, che in matematica hanno tantissime applicazioni. Quindi vedete, l'applicazione del principio di ottimo di Cedicev conduce a definire questi polinomi. Oh, naturalmente io qui... Che cosa ho fatto? Beh, sapete che i matematici amano normalizzare tutto quanto, quindi qui l'intervallo di ottimizzazione è tra meno 1 e 1. Però ecco, si può, diciamo così, bypassare questa limitazione. Oh, qui c'è anche un'altra rappresentazione trigonometrica dei polinomi di Cedicev, va anche bene, adesso non mi sto a... Oh, e invece ecco, vi stavo dicendo, l'analisi che è stata fatta, è stata fatta assumendo come intervallo di x di approssimazione le ascisse meno 1, 1. I matematici, insomma, vedo, amano lavorare con numeri semplici, però chiaramente questa non è una limitazione, perché io potrei fare un cambiamento di variabili, va bene, quindi spostare l'intervallo di approssimazione in un intervallo qualsiasi, per esempio x con 1, xn più 1, va bene, e attraverso una trasformazione di variabili cambiare le cose. Ecco, quello che è importante da vedere è che le radici dei polinomi di Cedicev possono essere calcolate attraverso una formula di ricorrenza. Questa è la formula di ricorrenza che viene utilizzata. In pratica, il valore di teta, questo valore di teta, se assume questi valori, la x, dove si realizza l'intersezione del polinomio con l'asse delle x, si può calcolare molto semplicemente. Ecco, questa è la formula che ci dà la posizione dei punti dove i polinomi di Cedicev intersegano l'asse delle scisse. I polinomi di Cedicev intersegheranno l'asse delle scisse nei punti dove ovviamente l'errore strutturale è nullo. E quindi, i punti di precisione, cioè il concetto di punti di precisione voi già l'avete, cioè i punti dove noi vogliamo che ci sia una perfetta coincidenza tra la funzione generata dal meccanismo e la funzione richiesta, ecco, è d'uso prenderla attraverso questa spaziatura che è detta spaziatura di Cedicev. Però vi dico subito, voi non etterrete, prendendo la spaziatura dei punti di precisione, in questo modo un andamento dell'errore strutturale esattamente come vorrebbe il criterio di Ottimo. c'è una certa differenza. Questo perché? Perché l'errore strutturale nella sintesi cinematica non è proprio una funzione polinomiale. Però, ecco, è buona norma utilizzare i polinomi di Cedicev e questa spaziatura. qui è la costruzione geometrica per il caso N è uguale a 3. Immaginiamo di avere, di dover, caso tipico, generatore di funzione su tre punti. Ecco, vi vado a calcolare i valori delle ascisse, va bene, in maniera tale che i punti di precisione siano i punti ottenuti proiettando questo poligono regolare, e va bene, sull'asse dei fascisti. Sempre su questo argomento della scelta dei punti di precisione, ecco, anche qui Florestein ha pubblicato, credo che sia uno dei suoi migliori articoli, però, stranamente, è poco noto. in pratica vi racconto brevemente come funziona. Allora, immaginate di dover, di aver eseguito la sintesi cinematica di un quadrilatero generatore di funzione. quindi, voi avete che cosa? Avete l'errore strutturale y di x f di x meno g di x. di un quadrilatero che si vede conipts sei che è l'errore rzzo che che questa è la funzione X questa è la funzione GX quindi input, output se andate a fruttare chiaramente uno dei problemi è dove scelgo i punti di precisione quindi immaginiamo di aver scelto i punti di precisione con la spaziatura di cedice se voi andate a votare l'errore strutturale avete un andamento un po' strano cioè non avete i massimi e i minimi non sono uguali questi sono questi sono i punti di precisione immaginiamo di essere stati bravi e di aver fatto la sintesi per quattro posizioni che cosa fa Frotinstein? Frotinstein dice essenzialmente questo nella sua tecnica di spaziatura modificata in pratica dice guarda se questo massimo è maggiore del valore assoluto di questo minimo che cosa bisogna fare? bisogna allontanare il punto di precisione allora se io lo allontano che cosa succede? questo valore si abbassa e questo valore si alza e quindi lui comincia e trova una formula per trovare una nuova spaziatura dei punti di precisione in maniera tale che poi l'errore strutturale presenta le stesse caratteristiche di quelle previste dal criterio di ottimo di cedice una volta che avete fatto questo di meglio non si può più fare cioè il teorema di ottimo di cedice garantisce che se l'errore strutturale ha le caratteristiche che abbiamo visto il valore massimo dell'errore strutturale resta minimizzato cioè meglio di così non si può fare e quindi capite bene che disporre della diciamo così della rispaziatura dei punti di precisione è importante sul mio testo ci sono sul mio testo ci sono tre esempi in cui questa diciamo così la spaziatura di colestine viene applicata consideriamo adesso un altro problema questo è sempre stato svolto da Polestine è un articolo pubblicato nel 75 assieme a Primrose e ha un un titolo diciamo così altisonante The Classical Transmission Angle Problem l'articolo dice molto di più di quello che io vi dirò oggi tratta sia il caso del quadratropiano che del quadratropiano però ecco ve lo voglio riassumere tutti quanti sapete cos'è l'angolo di trasmissione no allora l'angolo di trasmissione è un indice di prestazioni cinematica immaginate che il momento in questo quadratropiano sia quest'asta e il cedente invece sia quest'altra asta di un zero qui è evidente che cosa? beh è evidente che quest'asta il momento trasmetterà il moto accedente attraverso che cosa? attraverso la biela e quindi io mi troverò una situazione di questo tipo se non c'è attrito io posso dire che cosa? posso dire che la forza che la biela trasmette accedente dovrà essere orientata lungo a b nel caso in cui non ci si attrita quindi posso dire che la forza che la biela trasmette accedente deve avere questa direzione vedete che questa forza la potete scomporre in due componenti una componente ortogonale all'asta e una componente invece diretta proprio lungo l'asse allora capite bene che ai fini della trasmissione del momento ridurre il più possibile questa componente è importante cioè per me la condizione di ottimo è quando questa componente è pari a zero in pratica quando la forza trasmessa dalla biella succedente forma un angolo di 90 gradi purtroppo questa situazione non può verificarsi su tutto l'arco di moto del sistema su tutto l'intervallo di moto del sistema quindi si introduce quest'angolo che è l'angolo tra la biella e il cedente e quest'angolo è detto angolo di trasmissione qual è il diciamo il criterio di merito il criterio di merito è quello di fare in modo che la deviazione di quest'angolo dal valore ottimo di 90 gradi resti minimizzata quindi noi andremo a formulare il problema richiedendo che il massimo valore della deviazione dell'angolo di trasmissione dal valore ottimo 90 gradi resti minimizzato allora il problema che sta che ha affrontato che hanno affrontato Fraudestine e Pim Rose è il seguente è un problema veramente classico io voglio progettare quindi un qualitatelo manovella bilanciere che faccia corrispondere ad una rotazione phi del movente una rotazione psi del cedente e voglio che nell'intervallo di moto il valore dell'angolo di trasmissione il massimo valore dell'angolo di trasmissione o meglio la massima deviazione dell'angolo di trasmissione dal valore ottimo resti minimizzata è chiaro per tutti allora vuole il problema vedete bene che questo è un problema di sintesi di generatore di funzione niente di più anche qui Fraudestine credo che sia uno dei suoi migliori lavori anche qui poco noto tra virgolette io qui ho cercato di rappresentare geometricamente il problema quindi noi abbiamo questo è un bilanciere quindi oscillerà tra due posizioni di punto morto vi ricordo le posizioni di punto morto sono quelle in cui movente e biella sono o allineate oppure sono apposte quindi queste sono le due configurazioni di punto morto l'angolo psi e l'angolo di oscillazione questo è un dato del problema phi è invece l'angolo di rotazione del movente tra queste due posizioni ho il termine crank in inglese crank e manovella ho rocker e invece bilanciere se c'è qualche termine che non conoscete per favore alzate la mano e cercherò di tradurre per voi allora la sintesi viene operata in due fasi la prima fase andiamo a eseguire la sintesi del quadrilatero manovella bilanciere in maniera tale che dato un valore di phi il bilanciere oscilli di un valore psi assegnato come vedremo questa sintesi non conduce ad una soluzione univoca ma c'è un parametro libero Frodenstein che cosa fa utilizza il parametro libero ottenuto in questa prima fase di sintesi lo ottimizza in maniera tale da avere un andamento dell'errore sull'angolo di trasmissione congruente col criterio di ottimo di Cepice allora vado un po' veloce perché altrimenti rischio di non fare in tempo comunque sono delle costruzioni che sono riportate sul mio testo penso che il vostro professore magari le guarderà in qualche lezione in maniera un po' più attenta adesso quello che mi interessa è che voi abbiate l'idea generale di come il criterio di ottimo di Cepice possa essere applicato allora in pratica dopo la prima fase di sintesi ecco viene fuori qualcosa di simile ecco qua in pratica A, B, C, D sono le dimensioni delle aste mentre il allora vedete T è un valore noto U è anche un valore noto Mi è anche un valore noto l'unico valore incognito è questo valore lambda questo parametro lambda quindi il parametro lambda è incognito dalla geometria del problema vengono fuori queste quattro relazioni il problema è il seguente scegliere il valore lambda in maniera tale da operare secondo il criterio di ottimo di Cepice quindi che cosa viene fatto si calcola il valore minimo e il massimo dell'angolo di trasmissione ecco queste sono le configurazioni in cui il quadrateno presenta le deviazioni estreme ecco in questa configurazione quando vedete il movente è sorapposto al telaio in questo caso l'angolo di trasmissione presenta il valore minimo in quest'altro caso l'angolo di trasmissione il valore massimo quindi io devo fare in modo che questi valori massimo e minimo la deviazione rispetto a 90 gradi sia la stessa quindi vedete 90 gradi meno delta 1 questo è il l'angolo di trasmissione minimo 90 gradi più delta 2 adesso devo fare in modo che delta 1 e delta 2 siano uguali quindi perché? perché devo avere l'angolo di trasmissione tra massimo e minimo quindi ottengo questo è il valore seno di delta adesso il diciamo si la la sfida è andare a calcolare il valore minimizzare questa massima bene allora da questa da questa espressione all'espressione che ci fornisce il valore di lambda in realtà ci fornisce il valore di q però q è funzione di lambda attraverso questo rapporto di quadro su lambda quadro qua dentro ci saranno almeno una decina di pagine di calcoli e Freud e Stein mi ricordo che quando lui spiegava questo argomento ci distribuiva queste 10 pagine di passaggi agentici naturalmente anzi qualche volta era un po' cattivo e richiedeva che lo studente riproducesse dei passaggi mancanti quindi voleva vedere se siete andate a leggere quei 10 fogli su cui c'era questo delirio di passaggi oh guardate bene lì per lì può sembrare un po' un atto di crudeltà nei confronti dello studente richiedere quei passaggi agentici così pesanti perché ve lo dico subito la teoria di Cebicef è qualcosa di infernale per quanto riguarda le manipolazioni agentiche e quindi richiede veramente tanta fatica umana però posso dire tanta fatica ma poi il risultato è veramente un piacere da utilizzare io qui magari Giorgio te la mando ho un 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 worksheet in maxima per cui da qui a qui tutte le derivate di passaggi algebrici e si ottiene diciamo così col click di un però ecco quello che io ricordo e sono grato guardate bene perché la capacità di lavorare con le formule Freud Einstein era un maestro in questo era uno che quando faceva i passaggi non sbagliava e richiedeva che gli studenti fossero altrettanto bravi nel maneggiare le formule agentiche naturalmente io qui questa invece è qualcosa che ho fatto io ho risolto perché Freudstein avviva questa equazione di terzo grado che poi si risolve e quindi insomma si ottengono i valori di ottimo io invece cosa ho fatto ho risolto l'equazione e i risultati li ho messi in forma di design charts i design charts secondo me sono mi piacciono tantissimo perché perché in pratica sono utili vedete i design charts sono almeno quelli che ho prodotto sono molto semplici da utilizzare per esempio voi impostate il valore di psi impostate il valore dell'angolo teta che sarebbe 180 meno fi e dopodiché andare a calcolare i rapporti tra le lunghezze dei lati cioè non dovete risolvere niente dovete solamente guardare dei diagrammi e immediatamente avete la soluzione la soluzione di Cevicef si presta molto a questo tipo di vabbè questa è insomma tutta una serie di ecco questo è un altro un altro esempio preso dal diciamo così dal campionario di applicazioni di Cevicef che Frotestein ci propinava a lezione questo anche questo è un esempio che ho discusso sul mio testo allora di che cosa si tratta questo è un meccanismo un meccanismo cinghia viene indicato con questo termine rotary to linear in pratica vedete questa asta qua può ruotare e all'estremità di questa pureggia c'è uno stilo va bene e questo stilo praticamente descrive una traiettoria dovrebbe descrivere una traiettoria il più possibile per T-Linia io adesso qui ho esagerato la traiettoria di questo diciamo della punta di questo stilo la deviazione della punta di questo stilo da 90 gradi però va bene vi posso assicurare come vedremo che l'errore strutturale è veramente piccolo quindi il problema dove si usano questi questi meccanismi beh non so se avete visto gli indicatori nei serbatoi oppure nei compachilometri oppure nei meccanismi che vengono utilizzati per monitorare l'umidità nei locali questi meccanismi non so se avete visto sono costituiti da un ago una punta tracciante e poi c'è un rotolo di carta che ruota secondo una legge oraria costante e quindi praticamente se il pennino rimane sempre nella stessa posizione significa che l'umidità insomma si manteneva nei valori corretti altrimenti se comincia a muoversi va bene allora è successo qualche evento e quindi bisogna intervenire questi meccanismi per monitoraggio dell'umidità si trovano un po' da per tutti nelle musee nelle metropolitane quindi questo meccanismo anche in aeronautica ci sono varie varie applicazioni allora vediamo di formulare il problema di progetto il problema è stabilire le proporzioni di questo meccanismo quindi raggio della pureggia fissa raggio della pureggia mobile distanza tra i centri e distanza tra il centro e la punta tracciante e vogliamo che questo punto descriva una traiettoria il più possibile delle linee questo è il compito ripeto questa curva qua è la curva diciamo così come vorremmo che fosse la traiettoria di questo punto vorremmo una traiettoria equioscillante tra massimo e minimo i parametri di progetto li abbiamo orientati qui quindi tau che è il rapporto di trasmissione r e m che abbiamo già visto allora che cosa devo fare beh qui si raggiunge attenzione questo è un altro trucco di Florestein se Florestein vedeva subito la simmetria nei meccanismi quindi lui cosa ha fatto ha progettato il meccanismo ragionando bene su una sulla parte destra però chiaramente la parte sinistra è perfettamente simmetrica quindi io qui che cosa ho fatto ho progettato il meccanismo curandomi solo della parte destra perché sulla parte sinistra avrei avuto un numero di punti di precisione che è esattamente doppio rispetto al caso di destra quindi qui punti di precisione 1, 2 e 3 questo punto è in comune tra la parte destra e la parte sinistra quindi l'approssimazione della curva con la traiettoria ventilina è un'approssimazione del punto ordine perché la traiettoria descritta dalla punta dello stilo ha 5 punti di contatto a 4 punti di contatto con la attrazione del quarto ordine ha 4 punti di contatto con la con la con la venta allora qui ho impostato ho impostato Freud e Stein imposta le equazioni di sintesi in pratica vedete ci sono 3 posizioni in cui c'è il massimo errore strutturale qui il massimo errore strutturale è indicato con delta quindi sono questi punti qua 1 2 e 3 1 2 3 quindi 3 condizioni eccole qua 3 condizioni poi devo aggiungere la condizione relativa al punto di stazionalità in pratica questo punto qua è un punto di stazionalità e quindi ho 4 equazioni in 4 incognite in realtà sono 3 perché una dipende dall'altra e alla fine va bene ho un sistema di equazioni non lineare e devo andarmi a calcolare Q e il parametro L questo è il massimo errore strutturale Pao e Alfa sono prescritti cioè li assegno se risolvo questo sistema si guarda davanti ecco per Tau uguale a 3 mezzi ottengo subito la relazione e alla fine ecco qui queste sono le relazioni e questa è la tabella con i risultati ottimi quindi praticamente se io scelgo il valore Tau un terzo vedete questo è il è Alfa questo valore qua questo è il massimo valore dell'errore strutturale però io potrei anche entrare in tabella con il massimo valore strutturale quindi il massimo il massimo errore commesso dal meccanismo nel generale la traiettoria di linea e scegliere gli altri parametri vedo di andare rapidamente perché capisco bene che è un po' pesante vogliamo fare qualche domanda oppure andiamo casomai dopo capisco bene una fortuna perché Cebicev è veramente pesante come Algec il teorema di Roberts Cebicev questo l'avete fatto in pratica se io ho un quadinato che genera una traiettoria di rettilinea ce ne sono altri due che generano la stessa tuba di biella scusate una tuba di biella e ce ne sono altri due che generano la stessa tuba di biella e qui queste sono ecco allora Cebicev va a considerare inizialmente dei quadinatoli simetici il quadinatolo di Cebicev che Cebicev consiglia inizialmente è questo queste due sono le cegnere pisse eccolo qua questo è il quadinatolo eccolo qua e questo punto è il punto che descrive la traiettoria quasi rettilinea allora per questo quadinatolo la ruba di biella si dimostra essere questa avere questa spesa questa è la ruba parametrica teta e la posizione angolare del del momento se noi andiamo a semplificare ulteriormente il quadinatolo quindi se prendiamo questo quadinatolo e prendiamo come punto che descrive la traiettoria rettilinea a questo punto di mezzeria della biella allora l'equazione si simplifica ulteriormente allora se noi vogliamo progettare secondo il chileo di Cebicev un quadinatolo che la cui cuba di biella approssimi nel senso di Cebicev secondo il chileo di Cebicev una traiettoria rettilinea beh dobbiamo innanzitutto calcolare l'errore strutturale allora immaginiamo che la curva la traiettoria si trovi ad un'altezza y con 0 quindi noi vogliamo quindi y meno y con 0 è l'espressione dell'errore strutturale è chiaro che noi vorremmo che l'errore strutturale sia uguale a 0 purtroppo questo non è possibile e quindi bisogna scegliere r beta theta anche in maniera tale che il l'errore resti il massimo valore dell'errore resti minimizzato allora dopo un po' di manipolazione algebice algebice viene fuori che il prodotto di questo parametro 0 uguale a progettore con un gente di beta adesso non chiedetemi come Cebicev abbia a Cebicev si è avuto in mente di scegliere 0 uguale a tangente di beta quando uno è un matematico di professione certamente queste cose sono più facili che per i comuni non stai e quindi la curva dell'errore strutturale è questa quindi bisogna scegliere p con 1 p con 2 e p con 3 in maniera tale da avere la famosa funga dell'errore e di oscillare adesso vi risparmio tutti i passaggi algebrici sul testo li trovate insomma se avete lo stomaco allenato potete potete seguirne e alla fine quello che viene fuori è un procedimento che scegliete i valori estremi dell'angolo del movente beta 1 e beta 4 e vi calcolate tutte le altre diciamo così tutte le altre quantità le altre grandezze geometriche che caratterizzano il quadratolo vedete che ottenete anche il massimo valore dell'errore quindi che cosa si può fare beh io in genere questo l'ho fatto sul testo lo troverete troverete le carte di progetto cioè scegliete i valori di teta 1 e teta 4 e calcolate tutti gli altri valori non solo ma potete anche entrare questo non si vede bene perché non so perché la scritta non è molto chiara ma potete anche entrare nelle carte di progetto scegliendo il massimo valore dell'errore strutturale e andando a scegliere tutti gli altri parametri di concetto o naturalmente qualcuno dirà dice ma io di un quadratolo simmetrico doppio bilancere che cosa ci faccio beh potrei scegliere invece del quadratolo doppio bilancere da questo quadratolo doppio bilancere posso dire fuori un quadratolo cosiddetto combmante cioè quadratolo a fine che descrive la stessa traiettoria di DL quindi questo è il quadratolo e quindi posso avere un quadratolo ma novella bilancere dove questo punto di DL traccia essenzialmente la stessa traiettoria del quadratolo simmetrico che abbiamo progettato l'ultima 5 minuti e poi questo è invece qualcosa che ho fatto un lavoro che ho fatto vari anni fa nel 1990 tutti quanti sapete cos'è lo smorzatore dinamico? ve lo racconto in un attimo lo smorzatore dinamico è un oggetto molto importante però se voi avete una massa una massa principale M1 soggetta ad una forza armonica è chiaro che questa questa massa comincia a vibrare giusto? cosa agli ingegneri meccanici le vibrazioni non piacciono quindi dobbiamo intervenire per eliminare le vibrazioni lo smorzatore dinamico prevede che voi andate a raggiungere un elemento elastico questo è K1 questo è K2 questo è M2 e una massa all'estremità di questo allora se voi siete così bravi da scegliere opportunamente K2 M2 le vibrazioni della massa principale non dico che cessano ma si riducono in maniera significativa forse voi non lo sapete ma sui costi semiassi le macchine a trazione anteriore c'è lo smorzatore dinamico per smorzare le vibrazioni che vengono eccitate da giunto che sono eccitazioni del terzo ordine quindi è un smorzatore dinamico ha una serie di applicazioni enorme adesso vi faccio vedere qualche altra giusto per incuriosire una delle delle applicazioni più importanti è lo smorzamento delle vibrazioni nei grattacieli adesso non so quanti di voi guardano i programmi su extreme engineering e fanno vedere questi grattacieli di cento piani cose no benissimo tutti questi grattacieli hanno la necessità di mettere in cima bene alla sommità bene uno smorzatore dinamico quindi se non ci fosse questo smorzatore dinamico il palazzo uscirebbe e qui si aggiunge una molla e una massa ben normalmente parliamo di molle enormi e masse significative e queste queste masse si muovono in opposizione al movimento della massa principale quindi la fermano non c'è niente di magico in pratica che cosa succede che la forza di inerzia che fa muovere la massa secondaria equilibra la forza eccitativa quindi è sicuramente uno strumento molto utile l'altro esempio questo l'ho tratto dal libro di Denat di meccanica delle vibrazioni questo è un rasoio di rasoio elettrico uno dei problemi è che i barbieri tengono questi oggetti per tanto tempo e le vibrazioni distruggono le cartilagini e quindi se non vengono se gli attrezzi non sono opportunamente smorzati le persone va bene che impugnano questi attrezzi sul lungo periodo avranno delle conseguenze ho avuto un strumento che ha fatto una tesi di laurea su qualcosa di simile non so se avete visto che adesso vanno di moda i tatuaggi no? la macchina per fare i tatuaggi è una macchina che insegna un moto armonico all'alto e questo moto armonico naturalmente viene smorzato dalle mani del tatuatore ma quel tatuatore purtroppo siccome non prende nessuna precauzione queste macchine purtroppo non sono smorzate e questo lui purtroppo negli anni svilupperà delle patologie molto serie e si va dalla insensibilità a dei colpastrelli a malattie veramente degenerative della cartulace e beh qui l'idea è la seguente l'idea è quella di scegliere una massa vibrante c'è una lamella all'esternità di questa lamella c'è una massa piccolina e questa massa piccolina vibra in maniera tale da assorbire va in controfase con le vibrazioni invece della massa principale e quella che si dà rasoio che taglia i capelli il modello classico è questo va bene si chiama in inglese per smorzatore dinamico si usa o dinamity bumper oppure anche tuned mass damper che è un'altra tradizione e qui in questo caso vedete c'è anche da considerare lo smorzamento viscoso e se voi andate a scrivere le equazioni del saltiamo ecco questa è la risposta del sistema normalmente avete vedete due picchi perché due picchi il sistema ha due grandi libertà quindi ha due ampiezze in cui il sistema risuona bene chiaramente non ballo infinito perché c'è lo smorzamento riscoso allora qual è l'idea beh l'idea è quella di fare in modo che la curva della risposta dinamica del sistema sia come quella dell'errore strutturale perché voglio che sia minimizzata la massima elongazione la massima ampiezza della massa primaria e quindi ho impostato va bene il problema come se dovesse risolvere un problema di ottimo secondo cedicef e quindi ho impostato queste sono le equazioni quindi le oscillazioni tra massimo e minimo punti di stazionalità e alla fine viene fuori un sistema di equazioni non lineari questo sistema di equazioni non lineari l'ho risolto n volte e ho prodotto delle carte di progetto vedete allora questo in questo in questo diagramma vedete allora alfa è qualcosa di proporzionale allo spostamento massimo x prendiamolo x1 quindi alfa è proporzionale a x1 il rapporto mu è il rapporto tra le masse m2 su m1 quindi z1 invece è il fattore di smorzamento qua dobbiamo ammettiamo questo c1 z1 uguale c1 diviso vm1 omega 1 omega 1 è la pulsazione quindi cosa potete fare beh potete scegliere la massima l'ampiezza massima di oscillazione quindi entrare nel diagramma con l'ampiezza massima di oscillazione e scegliere i parametri per esempio il rapporto tra le masse il fattore di smorzamento una volta che avete calcolato il fattore di smorzamento potete calcolare anche il fattore di smorzamento del secondo smorzatore riscuoso che si trova qui bene e quindi arrivare alla soluzione del problema solo utilizzando le carte di progetto quindi vedete c'è Bicef utilizzato per risolvere un problema di sintesi cinematico con i nomi e gli oscillanti un problema di sintesi cinematica generatore di traiettoria un problema di dinamica questo è il progetto di un smorzatore dinamico quindi è un uno strumento veramente veramente molto corretto il cui uso richiede molta pazienza perché si tratta di sviluppare tantissimi passaggi algerici prima di arrivare al risultato però è una fatica che alla fine ci si fornisce un premio io avrei concluso se avete delle domande sono a vostra disposizione ringraziamo il professor penestri grazie 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 grazie